Cari fratelli e sorelle, Questi sono tempi difficili per il mondo perché abbiamo a che fare con le sofferenze causate dal coronavirus. Il vostro lavoro da marittimi e pescatori è diventato ancora più importante per assicurare alla grande famiglia umana cibo e altri generi di prima necessità. Di questo noi vi siamo riconoscenti, anche perché siete una categoria molto esposta. Negli ultimi mesi la vostra vita e il vostro lavoro sono notevolmente cambiati e avete affrontato e ancora affrontate tanti sacrifici. Lunghi periodi di lontananza a bordo delle navi senza poter scendere a terra. La lontananza dai familiari, dagli amici e dal proprio paese. La paura del contagio. Tutti questi elementi sono un pezzo faticoso da portare ora più che mai. Vorrei dirvi, sappiate che non siete soli e non siete dimenticati. Il vostro lavoro in mare vi tiene spesso lontani, ma voi siete presenti nelle mie preghiere e nei miei pensieri, così come in quelli dei cappellani e dei volontari della stella Maris. Il Vangelo stesso ce lo fa ricordare quando ci parla di Gesù con i Suoi primi discepoli, che erano tutti pescatori, come voi. Oggi desidero mandarvi un messaggio e una preghiera di speranza, una preghiera di conforto e di consolazione contro ogni avversità. E nello stesso tempo incoraggio tutti quelli che lavorano con voi nella pastorale della gente del mare. Il Signore benedica ognuno di voi. Benedica il vostro lavoro e le vostre famiglie. E la Vergine Maria, stella del mare, vi protegga sempre. Anche io vi benedico e prego per voi. E voi, per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie.